Geni, cos'è la vera ricchezza? La vera ricchezza forse non è quella economica, perché ho conosciuto tantissimi ricchi tristissimi con cui il cuore è proprio cambiare. La ricchezza è la capacità di essere liberi, di essere liberi nelle scelte, di essere liberi nel pensiero di essere liberi nel tuo movimento. La ricchezza è libertà. Sì. Mi sembra un'ottima provocazione.